Mi conviene comprare un iPhone o una fotocamera professionale? Questa è una domanda che mi ha lasciato uno di voi qui sotto nei commenti. Oggi vado a darvi la mia risposta a questa spinosa questione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per mestiere e quindi su questo canale vi porto le mie esperienze in maniera tale che vadano a beneficio di tutti. Lavoro ogni giorno con fotocamere e videocamere professionali e mi capita talvolta di lavorare anche con questo. Nel corso del video di oggi vado a spiegarvi quelle che secondo me sono le differenze tra le due tipologie di dispositivi e vi dirò sempre per quello che concerne il mio flusso di lavoro quindi per quello che faccio io dove sono sovrapponibili e dove invece no. Comincio subito facendovi vedere un paio di immagini a confronto. Qui vediamo delle fotografie della stessa identica scena ho preso uno dei miei astronauti sullo sfondo e l'ho messo fuori sul davanzale e quindi vediamo esattamente la stessa scena fotografata con un iPhone 15 Pro e con una Canon EOS R6 quindi con un iPhone top di gamma anche se adesso esce l'iPhone 16 Pro questo qui è stato il top di gamma fino adesso e una fotocamera che non è proprio top di gamma però poco ci manca perché comunque R6 è una macchina molto molto bella. Come potete vedere differenze allora chiaramente quando noi lavoriamo con una fotocamera abbiamo la possibilità di decidere quanto sfocare lo sfondo con un telefono cellulare questo non sempre è possibile in questo caso vedete che la sfocatura dello sfondo è venuta pressoché uguale anche se è un po' più accentuata sulla fotocamera la grossa differenza però è che sulla fotocamera io potrei controllare questa sfocatura sul cellulare un po' di meno lo so, molti di voi staranno pensando ma l'iPhone ha la modalità ritratto con cui io posso sì andare a intervenire sullo sfocato è vero ma lo fa elettronicamente e quindi non è bellissimo i contorni spesso sono frastagliati a volte contengono proprio degli errori non è altrettanto bello da vedere e poi funziona solo da certe distanze e solamente se il nostro telefono riesce a interpretare correttamente la scena mentre quando lo facciamo con una fotocamera o videocamera professionale è il vetro che decide dov'è il punto di messa a fuoco quindi è più preciso, più bello da vedere e abbiamo maggiore controllo su dov'è il punto di messa a fuoco proprio questo ci porta a un altro punto ovvero le ottiche ora se anche è vero che su un iPhone abbiamo tre obiettivi che poi si traducono in cinque, sette fotocamere diverse con interpolazioni varie quindi abbiamo la possibilità di variare la lunghezza focale anche sul telefono cellulare però non è proprio la stessa cosa nel senso che quando noi lo facciamo su una fotocamera professionale stiamo proprio cambiando l'ottica e quindi abbiamo un obiettivo un pezzo di plastica, metallo e vetro che è stato disegnato e pensato apposta per garantirci la massima resa possibile per il tipo di fotografia specifico che stiamo facendo questo è un dispositivo che funziona ma è un dispositivo generalista è fatto per riuscire a portare a casa qualcosa in tutte le situazioni ma non è specifico quasi su niente immaginatevi anche un obiettivo grosso così con tutto un sistema di lenti e meccanismi all'interno quale precisione possa avere paragonato a un lentino piccolo così ovviamente una cosa grossa, voluminosa con dietro anni e anni di ricerca e sviluppo avrà una presenza, un dettaglio migliore rispetto a quello che ci può dare il telefono in certi casi questo è determinante in certi casi non lo è per niente dov'è che questi due dispositivi secondo me si equivalgono abbastanza? quando facciamo fotografie di qualcosa di lontano e vi faccio vedere in particolare queste altre immagini messe a confronto come potete vedere nel momento in cui io fotografo qualcosa di vicino magari la vedo la grana fine lo vedo che è più bella la foto fatta con la fotocamera nel momento in cui fotografo qualcosa di lontano i dettagli un po' si perdono anche sulla fotocamera perché un soggetto lontano che quindi risulta più piccolo ne avrà comunque meno di dettagli avrà delle alte frequenze inferiori e quindi le due foto sono abbastanza paragonabili questo che cosa mi porta a dire nel momento in cui facciamo fotografia come era richiesto nel commento quando facciamo fotografia di viaggio travel photography, street photography secondo me i due dispositivi possono essere abbastanza sovrapponibili di giorno perché di giorno l'iPhone 15 e quindi anche il 16 se la cavano comunque molto bene se la cavano anche di notte per carità però di notte insorgono un po' di problemi per esempio non possiamo più controllare la velocità di quello che sta succedendo su una fotocamera possiamo sempre intervenire su tutti i parametri compresa la velocità mentre di notte il telefono fa modalità notturna e quindi non riusciamo a cristallizzare un movimento di notte per esempio il telefono funziona, funziona bene di giorno vi faccio vedere qualche altra immagine mi rendo conto che sembra un po' una minestra riscaldata però sono immagini che vengono da un altro mio video che non so se uscirà prima o dopo però insomma è un altro contenuto in cui ho già mostrato queste stesse foto che però si prestano molto bene perché vedete che in questo caso le immagini sono assolutamente buone io stesso non so se distinguerei la differenza tra le foto fatte con un telefono e le foto fatte con una fotocamera con la stessa focale se vi dovesse interessare andatevi a recuperare anche quell'altro video lo trovate tra i video già pubblicati sul mio canale giusto a questo proposito vi ricordo anche di iscrivervi al canale andate a recuperarvi i video precedenti e supportate il mio lavoro a voi non costa niente ma per me fa tutta la differenza del mondo dunque esistono dei contesti dove si equivalgono e secondo me le fotografie di urne all'aperto assolutamente sono uno di questi contesti in questo caso secondo me non conviene comprare una strumentazione una fotocamera degli obiettivi professionali per fare fotografia a meno che e veniamo a quelli che secondo me sono grossi problemi di questo dispositivo questo dispositivo possono chiamarlo pro tutte le volte che vogliono ma non è un dispositivo professionale in quel senso non è un dispositivo che si può usare professionalmente con serenità ecco mettiamola così io lo uso professionalmente lo porto quando vado dai clienti a per fare determinate cose lo uso però cosa voglio dire col fatto che non è pienamente professionale quello che voglio dire è che con un dispositivo come questo io non sono in grado di garantire al mio cliente che porterò a casa il lavoro come me l'ha chiesto perché questo dispositivo fa certe cose molto bene certe cose passabili e certe cose non le può fare con una macchina professionale io sono in grado di garantire al mio cliente che gli porto a casa il lavoro qualunque sia la situazione vi faccio un paio di esempi fotografia sportiva questo non va bene c'è un ritardo tra il momento in cui io clicco per scattare e il momento in cui la foto viene scattata effettivamente quindi se è un'azione veloce me la perdo avifa una natura animali safari non va bene perché non zoom abbastanza io ho bisogno di un teleobiettivo molto lungo per andare a scattare animali senza disturbarli un dispositivo come questo non va assolutamente bene sport racing motor sport sono tutti contesti dove ci vuole la velocità e la professionalità di uno strumento fotografico dedicato ci metto dentro anche il ritratto perché comunque nel ritratto soprattutto il ritratto dove bisogna fare del fotoritocco lasciate perdere le app face up tutte quelle cose lì che vanno bene si possono usare ma di nuovo non sono professionali perché quelle possono portare a un certo tipo di risultato ma non a qualsiasi tipo di risultato professionalmente se lavori con gli strumenti giusti puoi offrire al tuo cliente qualsiasi tipo di risultato voglia con le app gli puoi offrire certi tipi di risultato ma non tutti non tutto il carnet inoltre la qualità la precisione la bellezza dei lineamenti che ottieni con degli obiettivi fatti apposta sulle macchine fotografiche la profondità del colore è molto più bella su un dispositivo fotografico dedicato questo cosa significa che dobbiamo tutti spendere 3-4 mila euro per comprarci la macchina fotografica assolutamente no e soprattutto io la sconsiglio caldamente a chi è indeciso se uno è indeciso non spende 3 mila euro per capire se si è sbagliato oppure no io a tutti gli indecisi consiglio di continuare a utilizzare il telefono perché comunque funziona e se siamo indecisi vuol dire che non abbiamo un cliente se avessimo un cliente che ci pressa perché vuole le foto in un certo modo non avremmo indecisioni ci diremmo ok mi serve quella roba lì per fare questo lavoro per quel cliente se siamo indecisi vuol dire che non siamo in questa situazione vuol dire che probabilmente scattiamo per noi stessi le foto sono per noi attenzione questo dispositivo ha anche dei pregi ovvero ce l'abbiamo sempre in tasca è una spesa ammortizzata perché l'avremmo comprato comunque magari prendevamo uno meno costoso invece prendiamo questo ma spendiamo 200 euro in più 400 euro in più non 3 mila euro in più non ha accesso cioè si ha anche degli accessori ma è pensato per lavorare stand alone quindi mentre con la macchina fotografica poi c'è tutto un ecosistema professionale e professionalizzante che ci aiuta a portarci a casa la foto qui magari ce n'è di meno ma la buona notizia è che anche se ce n'è di meno e quindi la foto sarà meno professionale però questo è fatto in modo da darci il risultato lo stesso anche senza luci anche senza tre piedi è fatto apposta per essere usato così a mano libera e questo è un grosso vantaggio se non siamo professionisti ma se vogliamo goderci il viaggio goderci la vita io vi dico una cosa le più belle foto che ho fatto alla mia amicia per esempio io le ho fatte con questo e mi rode da morire questa cosa però se io tiro fuori la macchina fotografica ora che la tiro fuori ora che mi preparo e tutto lei si è spostata nel frattempo con questo discreto tiro fuori senza che lei mi veda tic le faccio la foto le foto più belle che ho fatto della mia amicetta le ho fatte con questo telefono e questo vale anche per contesti familiari magari convivialità amici parenti secondo me riusciamo a fare delle cose migliori con questo perché è più istantaneo non mette a disagio le altre persone non è vistoso nessuno si irrigidisce se tiri fuori un telefono mentre se tiri fuori un bazooka così la gente si irrigidisce perché dice oh mamma è arrivato professore adesso ci fa mettere tutti in poi invece con questo questo è sicuramente un pregio quindi grosse differenze secondo me sono queste questo non può reggere professionalmente perché la batteria non dura abbastanza si surriscalda troppo la memoria interna non è abbastanza insomma non ha un comparto professionale che mi mette in grado di dire vado a fare un lavoro solo con questo anche con questo si me lo porto come supporto ma mi porto la mia strumentazione professionale questo lo uso per fare giusto quelle due cosine in più una fotocamera professionale invece costa di più è più pesante ci consente più precisione ma soprattutto ci consente più personalizzazione ci consente di andare a sistemare le cose in maniera tale da avere tutta una serie di processi che si allineano e di avere la foto esattamente come noi la vogliamo sono due utilizzi molto diversi chi è abituato a usare questo non le compie queste azioni non sistema le luci maniacalmente non aspetta l'ora giusta del giorno è abituato ad andare lì e scattare e basta e se siamo quel tipo di utente questo è un dispositivo migliore della fotocamera perché la fotocamera ci dà un risultato alla fine secondo me più bello più appagante ma ci obbliga a lavorare ci obbliga a lavorare di più per ottenere quel risultato quindi se non vogliamo lavorare se non vogliamo fare fatica se non è il nostro lavoro se vogliamo solo goderci la vita il viaggio la compagnia questo sicuramente è il dispositivo più indicato spero che questa risposta sia stata abbastanza esaustiva aspettiamo di vedere iPhone 16 Pro sicuramente ci saranno delle migliorie magari cambierò anche idea ve lo farò sapere in un prossimo contenuto per cui vi invito a iscrivervi al canale così non ve lo perdete vi consiglio anche di cliccare il video che comparirà adesso in sovraimpressione perché è un'ulteriore riflessione sempre su questo tema io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti